questa azione è un po' troppo lenta dobbiamo fare un passo almeno in preparazione prima che lui fa le geste lo devi leggerlo dalla rincosta il gesto ormai è troppo veloce anche la rincosta 6 a 0 la rincosta la rincosta la rincosta Se la palla va in fondo, può essere anche accettabile a destra. Tutta sta cosa! E la palla va in fondo. Cioè, ha fatto un ballo, no? Sì. Vado. Sì! Ora, per la continuità di fase breve, perché siamo molto durati in fase breve. Questi due tipi non hanno sempre. Uno, due. Sì. Sì. Scusa, scusa. Bellissimo. Arriva, arriva. No, scusa. Deo! No, no, no. La palla è perfetta. Sendo qui indietro, ho preso di portarla avanti. La palla è perfetta. Sì. Due pari. Era una palla perfetta. Abbiamo visto il piano. Andiamo. Andiamo. Il piano. Uno. Sì, ma no, eh. Yes! Arco, nuovi piedi. Tre. Due. Già più a campo. Allora. ... trial. Corri. Di retro. Grazie. 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 No, loro sono di più. 6-5. Ah, ok. 5-7. Grazie. Bella battuta. Sei pari. Muovi il piede e ti chiedi a sortire con la palla. Non è che se la palla. Via, via. 3-3. Tra un po' altra, eh. Invitare. Oh, 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 oh. Invitare. 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 Invitare! Starogli. 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 Ehi! Il tuo movimento è troppo in ritardo. Quattro sette, cambio il campo. Stai sulla diagonale per correre il lungo lì. Stai andando il lungo lì. Quindi, il tempo è di qua. Guardate! Guarda il pallone! Guarda! Buongiorno! Guarda il pallone! Grazie. 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 Linea! Linea! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.